La città è piena di confusione, casini, urla dalla mattina alla sera e specialmente di notte abbiamo il diritto di poter dormire in pace. È nato da pochi giorni ma conta già decine di adesioni. È il Comitato Danni da Movida, residenti veneziani la cui vita e riposo sono pesantemente condizionati dalla sempre più intensa vita notturna cittadina. A Venezia c'è un bar o un ristorante ogni 50 abitanti e per ogni abitante ci sono 21 turisti che spesso vogliono far tardi la sera in uno dei 1500 locali che assieme ad alberghi ed affittanze turistiche occupano ogni zona della città. La situazione è disastrosa perché va detto subito per capirci che la Movida non è più estesa in alcune zone della città ben circoscritte ma ormai è sparsa in tutta la città. Per cui ogni angolo della città soffre di Movida. L'ordinanza comunale contro la Movida molesta della settimana scorsa è ritenuta insufficiente e in una lettera aperta all'assessore al commercio Sebastiano Costalonga e alla sicurezza Elisabetta Pesce il Comitato non esclude di ricorrere in ultima istanza anche alle vie legali, forte di alcune recenti sentenze che hanno riconosciuto le ragioni dei residenti. Tanto attendiamo un incontro con i due assessori al quale incontro noi andremo molto volentieri a patto che l'ordinanza venga momentaneamente sospesa perché un'ordinanza che fissa un orario di chiusura che già non è umano alle due di notte ma però che lo faccia solo per alcune zone di Venezia quando la Movida è dappertutto è una cosa a dir poco assurda. Il Comitato chiede tra l'altro maggiori controlli delle forze dell'ordine, anticipazione degli orari di chiusura notturna, più distanza dei plateatici soprattutto per gli accessi alle abitazioni e una norma che regoli definitivamente il consumo al di fuori dei locali e dei plateatici.